Allora, come prima cosa oggi dobbiamo finire l'opera che ci eravamo accinti a iniziare ieri, in cui, se ci ricordiamo, avevamo con molta facilità usato un iteratore per visitare il grafo. Quindi era, ok, eccolo qua, a buona ampiezza. Usando un grafo iterator di tipo in ampiezza oppure in profondità è stato molto semplice trovare l'insieme dei vertici che componevano i vertici raggiungibili, quindi il risultato di una visita. Un pochino più complicato, abbiamo iniziato a lavorarci, era capire quali fossero i percorsi di visita. E l'insieme dei percorsi di visita noi li abbiamo riassunto nel cosiddetto albero di visita, che ci dà quali sono gli archi da utilizzare partendo dal vertice sorgente che abbiamo scelto per arrivare a qualunque possibile altro vertice raggiungibile. Allora, ci siamo accorti che la classe iterator, o meglio le implementazioni dell'interfaccia iterator, ammettono la possibilità di registrare degli ascoltatori, dei listener, che si registrano su alcuni, che gestiscono alcuni eventi che vengono generati dall'algoritmo di visita stesso. E noi abbiamo cominciato a lavorare su una classe che avevamo chiamato Edge Traversed Graph Listener, in cui ci interessava andare ad osservare quando l'algoritmo attraversava un arco. Adesso, qui ci siamo messi nel punto in cui, non abbiamo ancora registrato questo listener, lo stiamo solamente sviluppando, ci siamo trovati nel punto in cui l'algoritmo mi dice, guarda che io sto considerando un arco. Allora, quell'arco può far parte dell'albero di visita se sono verificate alcune condizioni, perché ovviamente l'algoritmo di archi ne verificherà molti, non tutti saranno quelli che porteranno alla scoperta di un nuovo vertice. Noi dobbiamo capire, analizzando questo arco che ci viene fornito dall'attraversamento, se è un arco di quelli che fanno parte del percorso di visita. Cosa vuol dire? Vuol dire che in certo senso io da questo evento Edge posso estrarre, dicevamo, gli estremi dell'arco. Questi estremi dell'arco, in teoria, se l'arco mi serve, dovrebbero essere uno dei due un vertice già noto, l'altro un vertice non ancora noto, non ancora visto. Perché se per caso fossero entrambi i vertici già visti, vuol dire che quell'arco è un arco che non fa parte del, che è stato considerato dall'algoritmo, perché ovviamente l'algoritmo deve provare gli archi, ma non è stato utilizzato per scoprire un nuovo vertice, per raggiungere un nuovo vertice. Allora, dobbiamo fare dei controlli per verificare se ogni volta che l'algoritmo mi dice ho visitato un arco se questa visita ha portato alla scoperta di qualcosa di nuovo. Questo, abbiamo detto, lo sintetizziamo sotto forma di una mappa. Mappa, che abbiamo chiamato Beck, che per ogni vertice appena scoperto, come chiave della mappa, mi mappa appunto, mi restituisce il vertice da cui è stato scoperto. Ok? Quindi ricordiamocela, è una mappa che punta dal basso verso l'alto. È una mappa che punta, mettiamola qua come commento, Beck codifica relazioni del tipo child versus parent. parent. Ok? Dal noto figlio al noto padre. Allora, adesso noi chiediamoci, quest'arco qui mi dà una nuova relazione di tipo child parent? Quindi l'arco che ho appena ricevuto. Affinché sia una nuova relazione interessante, cosa deve succedere? Quindi, per un nuovo vertice scoperto, vertice child scoperto, devo avere che child è ancora sconosciuto, non ancora visitato, o trovato. Mentre invece parent è già noto. Ovviamente è già stato visitato. e questo, il fatto che i padri siano già stati visitati prima dei figli, me lo garantisce qualunque algoritmo di visita, perché ovviamente parte dall'assorcente. Allora, noi abbiamo due o tre compiti da verificare a questo punto. Uno, vabbè, il più semplice è capire, estrarre i vertici partenti al vertice arrivo. Noi qui, ieri, avevamo scritto del codice che non funziona, perché semplicemente l'oggetto edge in jgraph-t non ha dei metodi per fornirmi i due estremi dell'arco stesso. Allora, l'unico modo per ottenere, noi abbiamo l'evento E che chiamiamolo EV, quindi distinguiamo E come evento da EV come evento da E come edge. Quindi questo qua è un evento. Dall'evento EV estraggo l'arco. Ma dall'arco come faccio, un arco collega due vertici, una partenza e un arrivo, come faccio ad estrarlo? Ebbè, lo devo estrarre chiedendolo il grafo. Ma il traversal listener non lo sa qual è il grafo. Nessuno ne ha mai detto. Non sa qual è il grafo su cui lavora. E allora nel costruttore dovrò purtroppo accettare un altro parametro in più semplicemente per avere l'informazione del grafo su cui sto lavorando. Vabbè, graph, fermata. Default Graph, mettiamo lì il package così lui poi mi trova Default Edge Grafo. E quindi aggiungiamo questo come parametro al costruttore e poi lo salviamo. Quindi a questo punto questo listener, poverino, deve avere un po' di informazione di contesto per poter lavorare. Allora a questo punto io potrò dire facciamolo su più linee fermata source vertex sarà graph si chiama grafo? Grafo come l'ho chiamato? Grafo in italiano. Grafo punto get edge source che è un metodo di graph a cui passo event punto get edge e ne faccio un altro che è target vertex uguale grafo punto get edge target quindi ho estratto gli estremi dell'arco adesso mi chiedo questi estremi dell'arco soddisfano queste proprietà che sono quelle che mi dicono quest'arco effettivamente mi interessa fa parte dell'albero di visita? beh, lo verifichiamo c'è ancora però un passaggio in più che ci complica la vita perché questi li ho chiamati child and parent perché ho già l'idea di che ho dell'ordine con cui lo sto creando questo grafo qui li ho chiamati source target giustamente perché sono i due estremi di un arco io non so a priori l'arco in che ordine è stato messo o meglio se io avessi come in questo caso un grafo orientato ovviamente l'algoritmo di visita può attraversare gli archi solamente da source verso target e quindi il source sarà il parent e il target sarà il child la visita va dall'alto verso il basso dalla sorgente in avanti quindi ogni volta che attraverso un arco il fatto di attraversarlo mi fa scoprire o mi fa visitare un nuovo figlio di cui la destinazione dell'arco è il figlio e la sorgente dell'arco è il padre quindi c'è nel caso scriviamolo se l'arco se il grafo è orientato come nel nostro caso come nel nostro caso allora source sarà il parent e target sarà il child se il grafo non è orientato dipende potrebbe anche essere al contrario perché ovviamente in un grafo non orientato io quando inserisco un arco lo inserisco in un modo da A a B però poi se l'algoritmo di visita gli fa comodo visitarlo da B ad A lo visita da B ad A in questo caso B sarebbe il padre e A sarebbe il figlio ma l'arco nasce sempre come sorgente A e destinazione B quindi può darsi che i ruoli siano invertiti quindi in un grafo orientato so sempre in che direzione perché c'è solo una in cui si può attraversare un arco in un grafo non orientato io il grafo l'arco lo posso attraversare in entrambe le direzioni cioè non toglie che l'arco abbia una sorgente e una destinazione che invece sono indipendenti dalla direzione con cui lo attraverso in realtà non sarebbe neanche giusto chiamare sorgente e destinazione ma in qualche modo nel codice li devo distinguere l'estremo 1 dall'estremo 2 no? e allora continuo a chiamare sorgente e destinazione ma non è detto quindi lui non mi dice in che ordine ho attraversato dovrei verificare quindi di fatto io ho due casi possibili da testare nel caso nostro in realtà è sempre vero il primo però già che ci siamo scriviamo il codice che funziona nel caso generale quindi devo ipotizzare che so su uguale parent e target uguale child allora mi chiedo effettivamente questo child è nuovo? come faccio a sapere se è nuovo? beh vado a vedere se c'è già nella mappa child parent la mappa sto per raggiungere una nuova relazione che ho scoperto come questo child si raggiunge e da quale parent si raggiunge ecco ha senso solamente se questo child non è mai stato visto prima non è mai stato inserito nella mappa in precedenza perché altrimenti sapevo già da quale parent da quale padre raggiungere questo figlio ok? quindi io devo essere sicuro che il figlio non sia ancora stato usato come chiave della mappa e il padre beh ci sia ci deve essere perché non posso puntare a un padre che non esiste quindi se la condizione normale che se il figlio è già contenuto non è ancora contenuto nella mappa quindi not e quel figlio per noi è il target no? è l'estegnazione quindi la mappa è back contains key contains key contains value cioè io devo testare se quell'oggetto c'è già nella mappa come chiave o come valore in questo caso mi interessa come chiave se questo target non è ancora una chiave della mappa e invece però il source è già nella mappa questo dovrebbe essere penso sempre verificato però qui sto codificando queste due condizioni il child è sconosciuto e invece il parent è già stato visitato se è già stato visitato vuol dire che so da dove provenivo allora in questo caso posso dire che il put perché questo mi sembra put target vertex virgola source vertex aggiungo alla mappa l'informazione che questo figlio cioè la destinazione dell'arco il target dell'arco si raggiunge dalla sorgente dell'arco cioè il padre se invece però solo se il target non è ancora contenuto nella mappa io non voglio sovrascrivere un'informazione che già avevo se c'è già l'informazione non faccio nulla poi ho l'altro caso in cui la condizione è la stessa ma source vertex sono invertiti per tenere conto anche del caso in cui il grafo sia non orientato e quindi un arco venga attraversato nell'ordine diverso da quello in cui è stato dichiarato e beh semplicemente sarà esattamente la stessa cosa in cui scambio sorgente destinazione quindi as if qui abbiamo source qui abbiamo target e idem nella mappa ci metteremo un arco tra source e target questo serve solo nel caso di grafi non orientati e solo diciamo nel 50% dei casi dipende in tutti gli altri casi non dobbiamo fare nulla perché sono archi che non ci portano nuova informazione quindi questa riga qua in realtà corrisponde a quelle righe di sopra questo fatto una volta è fatto per sempre questo lavoro non è che dobbiamo ripensarlo da zero ogni volta questo codice qua lo possiamo tranquillamente prendere e riutilizzare tale quale allora questo oggetto qua quindi man mano che l'iteratore fa il suo lavoro per visitare il grafo salva nella mappa gli archi interessanti adesso come lo richiamiamo l'iteratore come facciamo a far sì che come facciamo sì che l'iteratore usi questo listener dobbiamo registrare l'ascoltatore sull'iteratore quindi prima di iniziare l'iterazione quindi dopo che ho creato l'iteratore con questa new e prima di farlo lavorare devo agganciargli il listener e guarda caso c'è un metodo add traversal listener che fa proprio questo quindi devo aggiungere un ascoltatore all'iteratore non al grafo creando un'istanza di questa mia classe edge traversed eccetera eccetera a cui passo ovviamente i parametri che deve avere quindi il grafo questo ce l'ho e back dovrebbe essere la mappa quella che ho appena creato qui quindi a questo punto nel metodo fermati raggiungibili le ho l'informazione di quale sia il grafo e della mappa che ho creato nella quale voglio che l'algoritmo mi scriva il risultato e quindi qua ho inizializzato attraverso il suo costruttore questo listener questo listener poi se ne sta tranquillo ma ogni volta che l'iteratore col suo metodo next considera uno o più nuovi archi perché ogni chiamata di next mi restituisce un vertice nuovo ma per trovare un nuovo vertice magari l'iteratore deve sondare più archi quindi mi chiama anche più volte quel metodo e man mano che non lo chiama se io trovo un vertice nuovo me lo salvo alla fine dell'iterazione mi ritroverò la mappa back riempita quindi proviamo magari anche solo a vederla questa cosa dobbiamo stampare questa mappa poi troveremo un modo di restituirla in modo più umano ok ok allora salviamo e vediamo se un run ci rende soddisfatti o ci dà un'eccezione ok allora questa sarebbe la mappa che è vuota perché mi sono dimenticato il vertice di partenza perché il vertice di partenza non viene scoperto attraversando un arco no ce lo devo mettere io a forza e quindi devo inserirlo qua quando creo la mappa devo dire prima di iniziare dove siamo nel model prima di iniziare l'iterazione devo popolare nella mappa almeno col nodo sorgente put è sempre compute mi corregge questo qua sorgente source questo qua che mi è stato richiesto dalla chiamante e il valore source come child chi ha come parent niente nessuno il nodo radice dell'albero quindi il punto di partenza dell'albero di visita è l'unico nodo che non ha un padre e noi lo riconosciamo magari mettendo null come padre questo ci aiuta anche poi a riconoscere tu sei la radice sì no a seconda del fatto che abbia o non abbia un padre tutti i nodi hanno esattamente un padre tranne la radice che ne ha zero tutti i nodi nell'albero di visita ovviamente ok con questo dovrebbe forse darci più soddisfazione allora qui parto da Bessis questo lo sapevamo già e questa è la mappa magari fatemela copiare in un blocco note così la studiamo un po' più con calma allora questo mi dice la mappa è disordinata quindi mi dice che la stazione a Bess è la radice quindi il punto di partenza della ricerca mi dice che la stazione a Blanc si raggiunge da Villeneuve-le-Roy vabbè mi dice che questa stazione a Cher Grand-Cormier si raggiunge da Maison-Lafitte eccetera eccetera allora cosa me ne fate di questa informazione prendiamo la stazione a caso che ne so questa qua Bersì e voglio sapere come si raggiunge Bersì da Abess allora la mappa mi dice mi dà il percorso inverso mi dice che Bersì si raggiunge da Gardelion scriviamocelo e Gardelion adesso io faccio una ricerca nella mappa un po' grezza ecco qua dov'è che Gardelion compare come chiave quando il valore è Chatelle-lesal quindi io so che Bersì si raggiunge da Gardelion e Gardelion si raggiunge da Chatelle-lesal e Chatelle-lesal da dove si raggiunge? Chatelle-lesal si raggiunge lo cerco come chiave non come valore eccolo qua da Gardelion allora Chatelle-lesal si raggiunge da Gardelion e Gardelion da cosa si raggiunge? vediamo Gardelion cerchiamolo con l'uguale così ci trovo già subito quello giusto si raggiunge da questo Barbro e beh questa cosa qui Roche-Quart il quale abbiamo preso un giro bello lungo il quale si raggiunge da Anver quindi andiamo a cercare Anver si raggiunge la Pigal lo facevamo prima a scrivere tre righe di codice per farci questo lavoro probabilmente vero? così apprezzate l'utilità dell'informatica fate un po' di cose a mano e poi da Pigal oh eccolo qua Pigal è raggiungibile direttamente da BES e so che sono arrivato perché a BES uguale null se cerco il passo precedente mi dice che non c'è quindi se io per caso mi trovo ad Abes e devo andare a Bersi questo mi dice devo leggere dal fondo ovviamente allora da Abes vai a Pigal da lì a Anver da Anver vai a Barb da Barb vai a Gardinor da Gardinor vai a Châtelet da Châtelet vai a Gardinor e dopo vai a Bersi come passaggio di stazioni intermedie quindi in questo senso la mappa codifica l'albero la mappa mi dà le informazioni sugli archi me le dà in ordine inverso in ordine inverso perché è più comodo l'ordine inverso perché il padre è unico i figli potrebbero essere molteplici quindi sono più difficili da codificare quindi questa informazione qui è disponibile in questa mappa back e come faccio a renderla disponibile anche al chiamante perché adesso ho stampato la mappa di brutto sulla console però sarebbe bello avere un metodo in cui io dopo che ho fatto la visita possa chiedergli va bene tu hai fatto la visita a partire da questa stazione e adesso dimmi la distanza il percorso tra questa e quest'altra allora ci accorgiamo che questa mappa back forse deve sopravvivere a questa funzione quindi anziché dichiararla come variabile locale magari andiamo a dichiararla come variabile del model quindi torniamo su e la dichiariamo come è un nome un po' generico back per metterlo qua sopra chiamiamolo back visit così ci ricordiamo che l'albero all'indietro relativa alla visita back visit e quindi andiamo a correggere poi sotto non è più questa qui ovviamente questo new age map mi serve perché ogni volta che chiamo l'algoritmo di visita voglio buttare via l'eventuale mappa precedente ne costruisco una nuova quindi devo svuotarla prima di tutto quindi il new lo faccio qua non lo faccio là sopra perché non voglio rischiare di condividere nelle chiamate successive una mappa che era già disponibile nelle chiamate precedenti e questa devo chiamarla back visit vabbè poi questo smetto di stamparlo perché stampa troppa roba quindi a questo punto questo oggetto back visit può essere usato per fornire un metodo che mi possa fornire il percorso fino a una certa fermata target destinazione cioè io faccio la visita partendo da un sorgente dico ok partiamo da qua lui fa la visita e si salva la mappa poi avendo la mappa gli posso chiedere allora qual è il percorso ovviamente da quella sorgente a questa destinazione che ti scelgo facile perché basta a questo punto farsi una lista facendo il giochino che abbiamo fatto prima a mano con la mappa cerco nella mappa il target supponendo che sia cioè controllando che sia effettivamente nella mappa ossia che corrisponde a una fermata raggiungibile perché potrebbe in questo caso il graffio è connesso quindi non ci dà problemi ma come prima cosa devo chiedere ok ma questa stazione a cui vuoi arrivare è arredingibile dalla sorgente fa parte della stessa componente connessa lo so semplicemente controllando se è compreso nella mappa oppure no se non è compreso nella mappa quindi if se per caso la mappa backvisit non contiene la chiave target quindi not ci metto un not davanti non va bene quindi il target non è raggiungibile dalla source quindi cosa mi sta a chiedere percorso e quindi si ritorna un null che se provi a usare ti darà un'eccezione se invece è raggiungibile devo fornire il percorso lo posso fornire sotto forma di lista ad esempio quindi list di fermata che è quello che devo fare uguale new scusate chiamiamolo percorso new linked list e e faccio il giochino di prima quindi innanzitutto nella lista come prima cosa aggiungerò dovrò aggiungere target e poi devo passare al successivo quindi potrei dire ad esempio fammi fare una cosa diversa fermata f uguale target partiamo da target con questa f e la aggiungiamo al percorso una volta che l'ho giunto al percorso passo al padre f uguale backvisit punto get di f quindi se io sono su un vertice f mi chiedo quale è il suo padre backvisit punto get di f e questo padre sarà il nuovo vertice tornando indietro che compone il percorso e quindi itero ripeto queste due istruzioni finché f non diventa null se f diventa null vuol dire che ho appena fatto il get della radice quindi while f diverso da null f queste due cosine ripercorre all'indietro l'albero costruendo la lista in questo ok sto guardando una cosa per dopo quindi questo metodo dovrebbe permettermi vabbè poi ovviamente ritorno il percorso questo punto può permettere al nostro test model di interrogare quindi io posso dire che se la fermata target sia non so una qualunque adesso non le conosciamo poi proviamo magari a fargli un'interfaccia grafica ma get ditemi il numero ne abbiamo 600 150 non so quale sia non ho idea e allora posso interrogare qual è il percorso chiedendo al model percorso fino a il target la 150 quindi qui abbiamo scelto una stazione arbitraria come sorgente e qui abbiamo visitato il grafo calcolando tutte le fermate raggiungibili da quella sorgente poi scegliamo una stazione arbitraria di arrivo e calcoliamo almeno in realtà è già stato calcolato visualizziamo il percorso che ci porta la stazione di arrivo e quindi scopriamo che la stazione numero 150 è la stazione Danube al netto della pronuncia e il percorso per arrivare da Abess a Danube è questo Abess Pigalle Anver Barb La Chapelle Stalingrad Jor eccetera eccetera all'indietro all'indietro perché il lavorino che abbiamo fatto sulla mappa ci dà i vertici partendo dall'ultimo tornando indietro a meno che a meno che nel costruire la lista quando aggiungiamo un vertice nella lista anziché aggiungerlo in fondo lo aggiungiamo all'inizio e quindi costruiamo la lista in ordine inverso quindi se vado a vedere la mia oggetto lista ha un metodo add che è quello che abbiamo usato ma anche un metodo add con index aggiunge un elemento specificato nella posizione specificata e sposta l'elemento che attualmente è in quella posizione e tutti gli elementi successivi in avanti di una posizione quindi è quello che li inserisce uno e sposta gli altri fate spazio che adesso arrivo io tra l'altro il motivo per cui ho usato come implementazione una linked list e non un array list è che perché fa lo shift gli elementi in avanti già lo sapevo fa lo shift gli elementi in avanti su un array list ha un'operazione che ha costo odn perché li devo spostare fisicamente dalla casella 3 alla casella 4 invece in una linked list ha costo od1 semplicemente riarrangio i puntatori quindi semplicemente anziché add f faccio add di 0 f perché devo aggiungerlo nella prima posizione sempre nella prima posizione allora se questo piccolo gioco di prestigio ha funzionato dovremmo rivedere esattamente la stessa sequenza ma in ordine corretto sotto quindi da best in avanti fino a Daniel quindi questo ci permette di poter restare io questo l'ho fatto con la visita in ampiezza dov'è che l'abbiamo fatto la visita qua però troppo per verifica se lo facessi con la visita in profondità non cambia niente o meglio cambia il percorso il percorso potenzialmente è più lungo perché la visita in ampiezza è l'unica che mi garantisce la lunghezza minima dei percorsi però tutto funziona esattamente nel stesso modo le fermate raggiunte sono le stesse il percorso impiegato ovviamente arriva da Nub passa da altre stazioni e se ci mettiamo a contare le stazioni è possibile e probabile che ce ne siano di più rispetto a prima di sicuro non ce ne sono di meno ok? allora tutto questo discorso carino in realtà ci sarebbero delle scorciatoie perché una cosa che si scopre è che se io vado in sotto qua in Traverse e se vado a vedere il mio iteratore in ampiezza mi accorgo che implementa guarda che bel metodo get spending three edge cioè in realtà sotto questo lavorone che ho fatto io lui lo fa già dentro e mi fornisce proprio il metodo che interroga l'equivalente della mappa che mi sono fatto all'interno dell'iteratore get spending three edge gli richiede un vertice che noi abbiamo chiamato il child e restituisce non il vertice padre bensì l'arco che ha portato a scoprire quel vertice quindi se volessimo potremmo usare questo metodo e ci risparmiamo la costruzione della mappa perché lui internamente la fa però è un metodo che è implementato solamente da breadthfirst iterator se andate su depthfirst chi l'ha implementato è stato pigro depthfirst e potete leggere bene bene queste righe io l'ho fatto tre volte ma non c'è quel metodo non è dichiarato livello di interfaccia quindi non è obbligatorio implementarlo quindi la soluzione che abbiamo fatto adesso funziona sempre nel caso di una visita in cui vi faccia comodo fare una visita in ampiezza si può usare anche direttamente quel metodo qua dello spending tree edge oppure addirittura questo get parent che è esattamente il corrispondente della nostra mappa scusate non l'avevo notato prima restituisce il nodo padre di un vertice v nell'albero di ricerca in ampiezza oppure null se v è la radice abbiamo già sentito questa frase esattamente la nostra mappa allora nel caso dell'iteratore per la visita in ampiezza è già tutto fatto quindi questo lavoraccio che abbiamo fatto oggi non ci serve nel caso di tutti gli altri iteratori invece questo è un modo di farlo o di fare altre cose ecco questo è un meccanismo generale per estrarre informazioni che ci possa servire durante un'operazione di visita del grafo quindi se c'è qualcosa di semplice che è già fatto bene altrimenti sappiamo come regolarsi per poterlo fare ne approfitto per due cosette semplici di java la prima questa classe è nata pensata vive solamente per essere chiamata in questo punto quindi noi abbiamo creato una classe che non vogliamo che venga usata altrove non avrebbe senso che fosse usata altrove cioè non è una classe di utilità generale ok non solo questa classe per poter essere utile ha bisogno di parametri che noi fatichiamo fatichiamo non è che sia difficile ma dobbiamo passare perché noi nel model li conosciamo ma quella classe non li conosce quindi li devo creare allora in realtà c'è un modo più semplice di fare questa cosa è di rendere quella classe una classe privata del modello non so se avete già fatto queste cose io posso dichiarare una classe in un file separato e quindi una classe che sarà pubblica e può essere istanziata da chiunque ma posso anche prendere quella classe e inserirla privatamente dentro può essere public o private ma comunque internamente al modello quindi sarà una classe come se il modello fosse una sorta di micro package o comunque classe può contenere su interno dichiarazioni di altre classi vantaggio qual è? è che questa altra classe la possiamo volendo rendere privata e così evitiamo che qualcun altro la usi la istanzi e vada a fare pasticci e due che essendo quest'altra classe inserita all'interno del modello ha diretto accesso a tutte le variabili di distanza e quindi non ho bisogno di passarli graph back eccetera eccetera perché già le conosce come si fa? semplicemente io dichiaro una classe la dichiarerò privata la chiamo magari nello stesso modo implement così aperta graffa chiudo graffa quindi sto dichiarando una classe non in un file a se stante ma all'interno di un'altra classe io poi ovviamente voglio che questa classe implementi l'interfaccia com'è che si chiamava attraverso il listener copiamo implements ok nel momento in cui scrivo implements lui comincia ad arrabbiarsi perché dire si è bravo implements ma me lo devi implementare davvero va bene è la stessa cosa che abbiamo fatto nella classe se stante e ovviamente l'unico metodo che mi interessa implementare per davvero è questo adesso mettiamoci magari solamente le righe di codice essenziali dove se notate grafo non si lamenta del fatto che sia scritto grafo grafo non l'ho dichiarato dentro questa classe non c'è ma è dichiarato dentro il modello e visto che io sono una sottoclasse del modello ho accesso a tutte le variabili del modello e tutti i metodi del modello stesso quindi posso toccare usare direttamente le variabili in questo caso parliamo di variabili di distanza della classe che mi contiene si arrabbia su back perché l'abbiamo richiamato back visit abbiamo cambiato nome quindi questo andrebbe corretto in back visit in 6 o 7 posti diversi quindi è una classe interna inner class si chiama che ho dichiarato in modo privato io potrei avere anche una inner class pubblica come faccio a chiamarla questa classe per poter creare un oggetto di questa classe semplicemente qualificandola cioè dicendo che questa classe è model.edge traverse graph listener in questo caso il costruttore non ha bisogno di niente infatti non è anche creato il costruttore là sopra quindi per queste classi che sono veramente come i comparatori per ordinare le cose per evitare di avere diciamo inquinare i vari package su mille classi idiote che fanno semplicemente un'operazione che mi serve solamente in un punto posso usare questo metodo dell'inner class si complica un po' il codice perché quella classe diventa più lunga però perlomeno rimane chiaro a chi serve questa classe serve al model perché dichiarta al suo interno quindi avendo fatto questo quest'altra classe diventa inutile cioè non è più utilizzata in questo programma assolutamente equivalente ok scegliete voi la via che preferite è chiaro che il vantaggio di averla a parte è che se io volessi debaggarla a parte allora mi fa comodo che sia una classe separata pubblica che posso creare istanziare eccetera però una volta che ha posto magari la posso migrare qua dentro c'è ancora qualcosa di rosso cos'hai che non vuoi che errore mi dai ah perché si chiamava IV anziché ok e qui è ancora back visit non l'avevo ancora corretto dappertutto ok adesso è a posto quindi non dovremmo stupirci che la cosa funziona ancora esattamente come prima abbiamo semplicemente spostato una classe andando avanti con questo ragionamento potrei addirittura dire ma a me che me frega di dovermi inventare un nome per questa classe che uso una volta sola potrei definire una classe usa e getta la creo la definisco la uso e la butto via senza neanche darmi la briga prendermi la briga di dargli il nome di dare un nome di segnare un nome si creando una inner class anonima come si fa? allora fatemi salvare qua lo facciamo ma in questo caso non ve lo consiglio però già che stiamo ragionando su dove mettere classi usa e getta il passo successivo rispetto a fare una classe interna e fare una classe interna anonima in line addirittura cosa vuol dire? vuol dire che io quando dico voglio aggiungere traversalistener devo avere qua ovviamente una classe di tipo traversalistener che implementi l'interfaccia scusate come si chiama? si traversalistener allora normalmente dovrei creare un new e al new dare il nome di una classe ecco Java ti permette di scrivere new passando anche il nome dell'interfaccia e tu mi dici ma non si può creare un oggetto a partire da un'interfaccia certo che non si può l'interfaccia non è una classe infatti e Clips giustamente si è subito messo una bella coppia di parentesi graffe dicendo bravo te vuoi creare un oggetto che implementi un'interfaccia dimmi come è fatto quell'oggetto quell'oggetto sarà un'istanza di una classe che non nominiamo ma che implementa quell'interfaccia quindi è una scorciatoia per dire new classe che non so come si chiama che implements traversalistener e ti do subito direttamente qua l'implementazione di quella classe ovviamente l'implementazione di questa classe deve soddisfare tutti i metodi prescritti dall'interfaccia quindi qua comincia a essere un po' qui abbiamo una parentesi tonda che è una normalissima chiamata di un metodo ad listener dentro questa parentesi tonda abbiamo una coppia di graffe dentro le quali definiamo un'intera classe con i suoi metodi con le sue variabili con tutto quello che vogliamo infatti se guardiamo poi quando si chiude questa graffa questa graffa è quella del metodo questa graffa è quella della classe e poi c'è ancora un chiuso a tonda che è questo il corrispondente che chiude la chiamata funzione quindi dal punto di vista della leggibilità zero stelle però effettivamente questa classe neanche volendo non c'è modo di usarla in un altro punto non ha neppure un nome viene creata qua una classe senza nome e di questa classe viene creato subito un oggetto e il riferimento di quell'oggetto viene passato attraverso al listener e quindi qua darò un'implementazione di quella classe che vale solo in questo punto allora questo si fa io qua non lo consiglierei minimamente perché questa classe ha molti metodi quindi veramente va a rompere totalmente il flusso della programmazione diventa illegibile però nel caso di una classe di un'interfaccia più semplice tipo appunto comparable potrebbe aver senso ti serve un comparatore devi implementare un metodo uno anziché creare una classe eccetera te lo crei direttamente qua in line e dai il criterio di confronto tra l'altro questa tecnica è quella non ci entriamo in questo corso e su cui si basa tutta la programmazione funzionale quindi le lambda in java che sono un alleggerimento sintattico fortissimo che permette di definire delle classi che implementano un'interfaccia con un unico metodo e quindi automaticamente creare la classe l'oggetto e chiamare il metodo con un unico operatore freccia quindi è una sintassi una metodologia di programmazione che da java 8 in avanti ha preso piede e tra l'altro dà anche dei modi nuovi di trattare le collection con dei meccanismi di streaming però qua non riusciamo a toccare anche questo quindi tutta questa parte come dicevo dal punto di vista della sintassi non ha nulla di particolare il significato è ti creo una classe ti creo un oggetto ti faccio usare l'oggetto e subito dopo butto via la classe non mi sono non mi sono affezionato la classe abbastanza da dargli un nome un po' come si fa con i cuccioli che dovete sopprimere quindi non vi dovete affezionare però è un va controbilanciato chiaramente con la con la scarsa leggibilità di una soluzione di questo genere in questo caso non lo farei assolutamente ok sono però tutte soluzioni funzionalmente equivalenti cioè alla fine c'è sempre un oggetto che implementa quel metodo che riempie la mappa della nostra procedura di visita ok direi che questo esercizio l'abbiamo sfruttato a dovere l'ultimo passo che rimarrebbe ma direi che lo possiamo fare per divertimento ma non non spendiamo il tempo in aula è quello di collegare questo metodo di ricerca del percorso all'interfaccia utente quindi io qua ho buttato giù un fxml in tre minuti in cui dovrei scegliere una situazione di partenza una situazione di arrivo clicco su cerca e lui mi dovrà far vedere il percorso che ha trovato quindi volendo poi possiamo riprendere questo progetto per terminarlo in modo che possa essere richiamato anche dall'interfaccia grafica e non solamente dal programma di test così non siamo obbligati a modificare il codice per scegliere le stazioni di partenza e di arrivo ok allora qui abbiamo trovato dei percorsi che sono diciamo percorsi qualsiasi tra che ci garantiscono una cosa sola cioè di collegare il vertice di partenza col vertice di arrivo poi c'è un caso particolare che è quello del grafo non orientato scusate non pesato e della visita in ampiezza quindi un caso particolare doppio in cui quel percorso non è solamente un percorso qualsiasi ma casualmente è il percorso che ha la minima lunghezza lunghezza calcolata con un numero di archi se non fossimo in questo caso particolare quindi o la nostra vita non fosse una vita in ampiezza o il nostro grafo fosse un grafo invece pesato questo percorso non mi garantisce di essere il migliore e allora come posso fare in questi altri casi cioè il caso generale a trovare dei cammini più brevi possibili cioè se io ho un grafo di questo genere che è un grafo orientato ma pesato qual è il cammino più breve che collega S e V ci vuole un attimo ecco allora il cammino con un numero minore di archi è SUV ma SUV è un cammino che a lunghezza 2 e costo o peso possiamo chiamarlo costo o peso secondo le nostre preferenze 9 perché il peso dell'arco SU 3 e il peso dell'arco UV 6 a guardare bene questo grafo ci si accorde che c'è almeno un cammino che ha costo inferiore ad esempio SU fa 3 UX 1 XV 4 e quindi abbiamo 3 più 1 più 4 fa 8 quindi fare il percorso SU XV ha costo 8 o 3 archi anziché 2 ma alla fine un costo inferiore quindi un cammino più lungo ma meno costoso in un grafo pesato normalmente quello che è più rilevante non è tanto il numero di archi ma i pesi che incontro che corrispondono a un costo un consumo di una risorsa associato allo spostamento all'esecuzione di quello spostamento poi non è detto che a occhio io abbia trovato quello migliore magari ce n'è un altro ad esempio S XV 5 più 4 fa 9 anche lui quindi non è migliore rispetto a SUV allora esiste tutta una famiglia di algoritmi che permettono di affrontare questo problema problema che normalmente è definito su un grafo orientato pesato pesato si è importante orientato non sarebbe obbligatorio ma solitamente è più semplice di ragionare così in cui il grafo pesato significa che ogni arco su ogni arco è indicato un numero reale che rappresenta il suo peso e quindi quando io ho un cammino di un grafo cammino ricordate che l'abbiamo definito come un insieme di archi una sequenza di archi collegata una sequenza di vertici collegata da archi a due a due possiamo definire il cammino del il peso del cammino come la somma dei pesi degli archi incontrati quindi quando io parlo di un cammino di peso minimo o per brevità il cammino minimo short spot cammino minimo intendo dire il cammino tra due vertici dati è un cammino quindi vuol dire che deve raggiungere il vertice di destinazione da quello di partenza per definizione di cammino ma in più tra tutti i cammini che raggiungono il vertice di destinazione deve dare il valore minimo della funzione peso peso dato come la somma degli archi se esiste se esiste perché può darsi che il cammino minimo non esista ad esempio il caso banale quando il vertice di destinazione non è raggiungibile quindi non esiste proprio nessun cammino non esistendo nessuno non esiste neanche il minimo di questo insieme vuoto poi in realtà c'è un altro caso che vedremo tra un attimo in cui il cammino minimo non esiste allora dal punto di vista algoritmico noi possiamo definire due tipi di problemi infatti poi ci sono algoritmi diversi che risolvono separatamente questi due problemi uno è il cammino minimo single source cioè da un nodo di partenza trovami il cammino minimo per un nodo di arrivo oppure per tutti i nodi possibili di arrivo cioè quello che abbiamo fatto prima con la visita del grafo in ampiezza dato un nodo di partenza in automatico mi dà tutti i nodi di arrivo non c'è un algoritmo più semplice che mi dia solo il percorso per il nodo che voglio io di arrivo perché comunque devo fare una visita che è già una complessità o di n non c'è nulla di più semplice quindi non vale la pena in quel caso trovare inventarsi un algoritmo che colleghi dato un verso di partenza e uno di arrivo mi trovi il cammino minimo per farlo li trovo tutti e poi vado a scegliere quello che mi interessa dal punto di vista della complessità non c'è nulla da guadagnare e inventarmi cose più complicate però in questo caso ho fissato il punto di partenza quindi dato un punto di partenza faccio girare l'algoritmo e poi quello mi dà tutti i cammini di lunghezza minima tenendo conto il peso ecco non come abbiamo fatto prima che tiene conto solamente il numero di archi rispetto verso tutti gli altri possibili vertici di destinazione oppure e questo è utile se devo fare più ricerca una ricerca sola di cammino minimo oppure più ricerche che abbiano sempre lo stesso vertice di partenza se invece io nel mio algoritmo nel mio programma dovessi fare più ricerche che però partono da vertici di partenza diversi allora magari mi conviene investire in un algoritmo che inizialmente lavora un po' di più ovviamente la velocità è ovviamente superiore che mi calcola all pairs tutte le coppie di cammini minimi quindi lavora all'inizio e poi mi da si costruisce interamente una struttura dati da cui diventa poi immediato dati due qualunque vertici tirare fuori qual è il cammino minimo costa di meno l'algoritmo calcolare tutti questi cammini minimi tutti insieme contemporaneamente rispetto a calcolarli per il vertice 1 per il vertice 2 per il vertice 3 di partenza per il vertice 4 di partenza e così via che ripetere tante volte l'algoritmo precedente quindi troveremo varie famiglie di algoritmi che diciamo così si posizionano in punti diversi di complessità rispetto a questi due casi e tra l'altro questi algoritmi si distinguono anche sulla base dell'informazione che mi forniscono cioè in alcuni casi se vogliamo fare il gioco matematico mi dicono ok tra il vertice di partenza che scelgo e quella di disinazione esiste un cammino minimo con peso 84 punto mi danno solamente il valore del peso magari mi basta allora mi serve magari un algoritmo più semplice che mi dica solamente il valore del peso oppure caso normale più realistico mi serve anche sapere qual è questo cammino da attraversare allora in questo caso devo anche avere il cammino che sia normalmente una sequenza di vertici come abbiamo fatto con le stazioni ma la sequenza di vertici è univoca solamente se abbiamo un grafo semplice se avessimo un multigrafo cioè che la stessa copia di stazioni veniva collegata da più linee allora ci servirebbe anche sapere qual è la linea quindi avere esattamente l'informazione anche sugli archi che ho scelto perché tra questi due vertici ci sono sette archi quale di questi sette ho usato per fare il cammino minimo quindi ovviamente il problema si complica sempre andando a complicare il grafo sottostante allora sembra che ci sia un po' di matematica in queste slide ma in realtà avendo fatto prima l'esercizio in cui ci siamo costruiti la mappa è la stessa cosa con in più la complicazione del peso cioè come faccio io a rappresentarmi i cammini minimi pensiamo ad esempio da una sorgente unica facciamo il caso semplice io ho scelto il vertici sorgente che qui è chiamato U per brevità e voglio inventarmi una struttura dati che permetta in modo compatto di rappresentare tutti i cammini minimi allora i cammini minimi poi lo dimostriamo o lo accenniamo accenniamo il fatto che è stato dimostrato compongono un albero così come i cammini minimi sul grafo di visita in ampiezza avevamo visto che doveva essere necessariamente connesso ed aciclico quindi un albero e abbiamo già scoperto che il modo più comodo per rappresentare per codificare in modo molto condensato un albero è una mappa di puntatore all'indietro allora questa mappa di puntatore all'indietro qui in queste slide è chiamata P greco P P per padre ok i padre di V quindi un algoritmo che mi calcola i cammini minimi mi deve restituire la mappa dei padri il back visit di prima e in più anche il peso del vertice quindi per ogni vertice io devo sapere qual è il peso del cammino minimo che arriva fino lì e qual è il vertice precedente nel cammino minimo che porta a quel vertice V sono queste due informazioni o tutto dato ovviamente una certa sorgente quindi in questo caso questo è già il risultato di un calcolo di cammini minimi partendo da S lui mi dice ad esempio che S è la radice perché non ha padre però se prendessimo il vertice V mi dice che V è raggiungibile con peso 8 V è raggiungibile con peso 8 come? beh raggiungendo V partendo da X e raggiungendo X partendo da U VX XU e ovviamente raggiungendo U partendo da S ed S è la radice quindi qui è esattamente il stesso lavoro che facciamo sulla mappa prima scelgo verso di destinazione e poi navigo all'indietro fino alla radice sotto mi dice già in anteprima qual è il peso di questo percorso ritroso che farò ecco questo è il risultato che l'algoritmo di calcolo dei cammini minimi deve fornire se fornisce queste due tabelle poi dopo noi possiamo estrarre qualunque informazione ci serve quindi internamente gli algoritmi lavorano per costruire questi dati non è che si riempiono da soli con i valori giusti devo arrivarci per gradi tutto questo ha senso e ci convinciamo che ha senso considerare che i cammini minimi compongono un albero dicevamo prima perché? è per questo ragionamento che c'è scritto qua in questa slide dice supponiamo di avere già la conoscenza dei cammini minimi di tutti i cammini minimi se io ho un cammino fatevi trovare delle lettere più facili da A a B e mi dicono quello e ho calcolato che quello è il cammino minimo scegliamo un punto qualunque C intermedio che fa parte del cammino minimo da A a B se io mi chiedessi qual è il cammino minimo per arrivare a C ok? la risposta è lo stesso cammino minimo che mi permette di arrivare a B passando da C cioè se devo andare da Torino a Roma e qualcuno mi dice che il cammino minimo passa da Genova allora quando ho calcolato il cammino minimo che arriva fino a Roma automaticamente ho anche il cammino minimo che arriva fino a Genova non c'è nessun modo migliore di arrivare a Genova che non quello che ho calcolato per arrivare a Roma se Genova fa parte del cammino minimo per arrivare a Roma quindi vuol dire che se io ho un cammino minimo per arrivare a un certo punto il cammino che arriva fino lì non dipende da dove dovrò andare dopo potrà essere utile o non utile per andare in una certa direzione ma se vado in quella direzione e lo voglio usare il cammino per arrivare fino lì è fisso se devo andare non so a Modena magari non mi conviene passare da Genova e allora di quel cammino minimo da Torino a Genova non me ne faccio niente perché passavo da Piacenza magari però se è un po' strano questo teorema perché dice se tu sai già che quel vertice fa parte di un cammino minimo che ti porta più lontano allora diciamo così tutti diciamo in modo più operativo più utile tutti i cammini minimi da Torino a qualunque città che passino da Genova quindi se il cammino minimo passa da Genova allora la tratta Torino-Genova sarà identica per tutti poi dopo ci dividiamo ok allora questo è ciò che dà la proprietà ad albero del cammino minimo cioè non esiste mai il caso in cui se da Genova devo andare verso Ventimiglio se devo andare verso Livorno allora prima a Cuneo ho fatto qualche cosa di diverso ok allora quello mi permette di dire se Genova fa parte del cammino minimo il predecessore è uno solo perché non dipende da cosa succederà dopo Genova questa è la chiave su cui lavorano tutti questi algoritmi e che quindi possono rappresentare sotto forma di albero di vertice precedente vertice ossia quella mappa che abbiamo cominciato a conoscere adesso qui ci sono un po' di simbologia ma la conclusione è che il grafo GP greco è il grafo che contiene la relazione padre cioè l'albero di visita l'albero di cammini minimi è un albero innanzitutto è un albero la cui radice ovviamente è la vertice di partenza e tutti i cammini presenti in quest'albero sono tutti cammini minimi e quindi il lavoro è semplicemente quello di costruire questo albero questo è semplicemente il sottografo che è ottenuto dal grafo di partenza considerando solamente i grafici che fanno parte di questa relazione padre quindi immaginate di avere una copia di quel grafo in cui cancellate tutti gli archi tenete i vertici ma cancellate gli archi che non fanno parte di questa relazione questo è un albero in questo caso è un albero molto degenere perché non ha branching è uno spaghetto però da quest'albero posso ottenere tutte le informazioni che mi servono c'è un caso particolare su cui spendo solo 10 secondi perché non è quasi mai non appare quasi mai nei problemi reali quindi il problema è più matematico cosa succede se ci sono dei pesi invece negativi perché noi abbiamo detto che il peso di un arco è un numero reale ok i numeri reali sono metà positivi ma le altre metà sono negativi allora possono succedere le cose normali tipo S A peso 3 AB meno 4 arrivo a meno 1 BG devo ancora sommare 4 arrivo a più 3 quindi per andare da S a G posso fare questo percorso che passa da A a B e il peso che trovo è 3 meno 4 più 4 3 vabbè è un po' come se io che ne so avessi un'auto elettrica e vado in discesa l'energia che consumo è negativa ma alla fine la fisica vuole che ne abbia consumato comunque una quantità positiva qualunque cosa succeda al punto d'arrivo oppure posso avere questa cosa qui che dice 5 6 8 quindi 5 6 11 più 8 19 ma in realtà c'è un arco all'indietro che pesa meno 3 allora uno potrebbe dire ma io se attraverso quest'arco ci guadagno spendo una quantità negativa quindi magari lo farei 5 6 sono 11 meno 3 oh sono tornato a 8 solo che poi per arrivare alla destinazione dall'8 devo sommare 6 che fa 14 e ancora l'8 finale che fa 22 e ci ho perso cioè fare un arco da 6 oppure fare un arco da 6 meno 3 ma poi di nuovo 6 ci perdo quindi non è furbo attraversare questo arco negativo non mi fa guadagnare perché è vero che mi fa guadagnare funzione di costo ma mi fa tornare indietro nel mio percorso e poi devo aggiungere un peso positivo maggiore di quello che ho guadagnato col peso negativo quindi questi casi non sono problematici il problematico è il caso di sotto in cui io S vado a D 2 poi ovviamente per andare avanti passo da quest'arco 3 e ho un peso 5 quindi con 5 e 7 12 sono arrivato ma io potrei anche dire ma una volta che sono qua perché faccio 7 per arrivare faccio meno 6 5 meno 6 fa meno 1 poi pago 3 e quindi io faccio un giro in più e torno qua con un peso che era 5 meno 6 più 3 2 allora a questo punto posso fare 2 più 7 che fa 9 ma se ho già 2 potrei fare un altro giro e arrivare a 2 meno 6 più 3 meno 1 meno 1 più 7 mi da 6 quindi ci sto guadagnando ma allora faccio ancora un altro giro da meno 1 arrivo a meno 4 meno 4 più 7 fa più 3 c'è ancora guadagnato quindi quanti giri devo fare e più ne faccio più ci guadagno allora in questo caso il cammino minimo non esiste perché il cammino minimo avrebbe se esistesse lunghezza infinita e un peso tendente a meno infinito perché più vado avanti più il peso che mi servirebbe per arrivare a parte che la distinzione non ci arrivo mai perché l'algoritmo non deciderà mai di prendere questo arco 7 perché gli conviene sempre fare ancora un giro in più ma più giri fa più il peso diminuisce fino da raggiungere non ha limite inferiore quindi diciamo che lo indichiamo come meno infinito allora questo è un caso malato in cui non è possibile definire un cammino minimo è un caso che come dicevo nei casi reali non succede bisogna solo fare attenzione perché ci sono alcuni algoritmi tra quelli implementati che reagiscono in modo più o meno gentile ai pesi negativi ci sono alcuni algoritmi che non funzionano se trovano almeno un arco negativo proprio danno risultato sbagliato altri che sono in grado di gestire degli archi negativi purché siano contenuti in cicli che complessivamente siano positivi quindi sono in grado di gestire nessun algoritmo ovviamente sarà in grado di gestire questo caso se siamo fortunati l'algoritmo esce con una condizione di errore perché riesce ad accorgersene internamente se siamo sfortunati ci dà dei valori sballati perché le condizioni di terminazione non hanno più senso quindi nel caso in cui capitasse lo dobbiamo verificare allora io la prossima volta vi voglio parlare un po' di degli algoritmi principali però volevo un attimo saltare avanti ecco questo è l'elenco del package che si chiama ald.shortestpath di jgraph.t che contiene ogni riga di questo è una implementazione diversa di un algoritmo diverso di ricerca di cammini minimi spenderò un po' di tempo la prossima volta per darci un'idea di come funzionano internamente di qual è il principio su cui funzionano ma abbiamo tutta una varietà di implementazioni di algoritmi single source oppure all pairs di tutte le tipologie diverse e vado sull'ultima slide qua che ricordavo di avere ovviamente sono anche diversi in termini di complessità di complessità e di applicabilità vedete che alcuni di questi algoritmi sono all pairs quindi ci danno tutte le coppie possibili alcuni invece sono single source hanno un sorgente ci danno tutti i cammini che partono da quel sorgente e arrivano alle varie destinazioni e hanno efficienza di tipo diverso e vincoli di tipo diverso per quanto riguarda la negatività degli arti quindi poi noi alla fine nella maggior parte dei casi useremo o l'algoritmo di Dijkstra per il single source oppure l'algoritmo di Berman Ford di Floyd Worshall per l'all pairs che sono i due più semplici da capire più semplici da utilizzare però così almeno abbiamo un pochino la mappa per poterci orientare in casi particolari allora la prossima volta quindi aggiungiamo al nostro esercizio anche la possibilità di trovare i cammini minimi non solamente le visite adesso è tempo di un po' d'intervallo